Il Palermo vuole muoversi prima di tutti sul prossimo calciomercato che è già iniziato ma che aprirà ufficialmente i battenti il primo di luglio. Dopo aver preso Traikoski e Cassini, il club rosa-nero vuole chiudere per un attaccante. Secondo quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport, il Palermo continua a trattare Defrel, attaccante del Cesena che si è messo in mostra in questo campionato appena concluso. Maurizio Zamparini avrebbe contattato Rino Foschi per discutere l'affare e considerati buoni rapporti tra i due, il Palermo potrebbe avvalersi di una corsia preferenziale. La richiesta del Cesena si aggira intorno ai 5 milioni di euro più bonus. In vista del prossimo campionato, in tanti rosa-nero si ritrovano già un centrocampista che ha fatto vedere ottime cose in questo torneo ed è Mato Iaialo. Iaialo, al Corriere dello Sport, ha parlato del suo rapporto con alcuni degli allenatori avuti in carriera. Iacchini mi piace, ha detto Cuglio, ho trovato l'intesa, operai entrambi in campo e nella vita. La prima esperienza italiana a Siena invece è stata disastrosa. Giampaolo mi voleva bene, con Malesani invece non ho legato e sono finito in tribura. Prossima settimana, subiti di mercato tra Zamparini, Iacchini e Gerolino. In ballo ci sono alcune trattative da far decollare. Prossima settimana, subiti di mercato,